Oggi sono a didacta, devo dire che ho trovato molta partecipazione, molta voglia da parte dei docenti di partecipare anche a dei corsi di aggiornamento e di formazione. Io penso che la scuola dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale passi anche da didacta che ormai è una meta fondamentale. È importante perseguire l'obiettivo di questa innovazione ricordando sempre che deve essere al servizio della didattica e non sostituirla. Questo per me è importante perché poi se no il limite è l'abile della differenziazione, quindi apprendimento e trasmissione delle conoscenze che tradizionalmente si sono sempre fatte, sviluppando e potenziando tutti gli strumenti che la tecnica e l'informatica ci mette a disposizione. Io penso che sarà sempre in mano ai docenti, alla loro formazione e alla loro sensibilità allo sviluppo di questa strumentazione. I compiti a casa, molte volte devo dire la verità, sono troppi. I ragazzi dovrebbero riuscire a effettuare all'interno della scuola le maggiori attività possibile. Quindi se si va in questo senso è positivo, ma naturalmente ci vogliono docenti formati per indirizzare gli studenti su queste nuove tematiche, su questi percorsi innovativi che vanno gestiti anche con molta contena.